Il comune denominatore di Topolino sin dal lancio è stata la semplicità, la semplicità anche nel modo e nelle modalità di acquisto online ma da oggi in anteprima nella versione aperta anche all'interno di Unieuro, proprio per offrire la possibilità di scoprire la soluzione della mobilità urbana ai clienti che ogni giorno entrano all'interno di Unieuro. Allora il piano di comunicazione naturalmente è caratterizzato da una comunicazione omnicanale sia sugli asset digitali social di Unieuro sia sui nostri asset di fiat.it. È forte il nostro impegno per supportare la mobilità urbana sostenibile in Italia, ecco la Topolino è la soluzione ideale per i nostri certi urbani perché è elettrica e quindi emissioni zero, perché è compatta e quindi migliora anche la congestione dei nostri centri urbani e poi nella nostra offerta Fiat offriamo dalla Topolino fino alla 600 per un forte impegno nel supportare la mobilità green. Sicuramente la 600 rimane un focus importante della nostra strategia di comunicazione, sappiamo tutti che è stata lanciata subito nella versione elettrica, da qualche settimana presente anche nella versione ibrida, quindi è il nostro forte impegno. E poi naturalmente non dimentichiamo la nostra iconica Panda che oggi si evolve perché diventa la Panda più tecnologica di sempre e quindi sicuramente anche la Panda riserverà un grosso focus in termini di comunicazione da parte del nostro brand. Noi vogliamo arrivare dove il cliente è presente. Naturalmente siamo un brand Fiat, leader della mobilità in Italia e quindi naturalmente i nostri investimenti in termini di comunicazione e di pianificazione media sono veramente importanti ma sempre in ottica di dare la giusta soluzione di prodotto dove il cliente effettivamente si trova. Principalmente tv, tutta la parte social, digital e anche radio. Grazie a tutti.